cappello a navigazione ex dotazione marina militare italiana in colore giallo acceso per essere visualizzato bene dal restante equipaggio viene indossato in navigazione in occasione di tempeste o maltempo ha una calotta di tipo sferico un soggolo per fissarlo è interamente impermeabile ha una visiera che si può ribaltare per visualizzare bene o chiudere notare il retro estremamente allungato per far scolare via tutta l'acqua è impressionante la sua impegnabilità in quanto da prove fatte risulta in effetti avere un livello ottimale di tenuta interno e dello stesso materiale all'esterno tessuto molto resistente ottime cuciture a tenuta molto ben fatto e ben cucito presumibilmente prodotto in italia dentro riportata in piccolo in eretto la taglia ok